Allora, le sedi di negoziazione. Le sedi di negoziazione nel nostro ordinamento ad oggi sono suddivise in mercati regolamentati MT, mercati sistemi multifunzionali di negoziazione MTF e sistemi organizzati di negoziazione OTF. All'infuori della regolamentazione esistono ancora i cosiddetti mercati over the counter, i mercati OTC in cui si scambiano strumenti finanziari come i swap o come gli strumenti non standardizzati. Nella regolamentazione in Italia è mutata profondamente riguardo alle sedi di negoziazione. Questo perché si è passati da un'ottica pubblica in cui la vigilanza del mercato era pubblica, data ad un'autorità centrale, a un sistema in cui si è andato a privatizzare le sedi di negoziazione e si è andata anche a frammentalizzarle. Non c'è più un'unica autorità di regolamentazione riguardo a un'unica sedi di negoziazione regolamentata in cui si vuole accorpare tutto sotto pubblici poteri, ma ci sono vari sedi di regolamentazione private e questa frammentazione, questo stimolo della concorrenza appunto avviene in un'ottica di segmentizzazione per aumentare la concorrenza ed aumentare anche la trasparenza all'interno del mercato. Ok, aumentare pure la trasparenza all'interno del mercato. Per aumentare la trasparenza e dunque aumentare l'efficienza per obblighi di trasparenza, dunque i costi saranno tutti più puliti e si aumenterà la trasparenza per aumentare la tutela degli investitori e rafforzare il processo di price discovery, ovvero di trovare i prezzi, l'informazione dei prezzi all'interno del mercato. Dunque abbiamo detto le tre tipologie dei sedi di negoziazione del nostro ordinamento. Andiamo a dire che i mercati regolamentati sono gestiti da un gestore con apposite caratteristiche che in Italia, Borsa d'Italia, SPA, il gestore del mercato regolamentato può anche gestire MTF ed OTF. Diverso è il caso di OTF ed MTF che sono strumenti finanziari e per questo possono essere gestiti da banche SIM e SGR perché sono strumenti, ma le banche SIM e SGR non possono gestire il mercato regolamentato. La borsa può gestire i MTF e OTF previa autorizzazione della Consob. Successivamente cosa si può dire? Si può dire che dunque i mercati regolamentati sono sistemi multilaterali, cioè la multilateralità non sono bilaterali perché le controparti non si interfacciano solo col gestore, ma si interfacciano con le altre controparti. Il gestore è presente solo nell'ottica di sistema, nell'ottica della regolamentazione non discrezionale a cui le contrattazioni con le controparti sono redatte e vigila e sarà anche un controllore. Ok, mentre nei sistemi, questo è il mercato regolamentato, mentre il sistema MTF è un sistema multilaterale di negoziazione che facilita l'incontro di interessi di acquisto-vendita di terzi, di strumenti finanziari, secondo regole non discrezionali anch'esso, in modo da dare luogo a contratti, mentre gli unici sono gli OTF, non so se prima ho sbagliato detto MTF, Gli ultimi sono gli OTF, dove c'è sempre un sistema di regolamentazione OTF, solo che questo è sempre facilita l'incontro, ma questo avviene su base discrezionale, quindi la differenza tra OTF e gli altri è la discrezionalità del gestore, e anche la tipologia di strumenti finanziari, perché in MT e in MTF vengono scambiati, strumenti finanziari equity o equity like, come azioni, come certificati di deposito, come indici LinkedIn index, indicizzati, come queste categorie qua, azioni, tutti i tipi, e mentre nelle sedi OTF vengono scambiati strumenti meno rischiosi, obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni, profilo di rischio un po' più basso, ok, questo qua volevo dire, poi successivamente, questi sono gli OTF e MTF, successivamente cosa si può dire? Si può dire che MTF, OTF, Cristo di Dio, cosa si può dire poi? La discrezionalità, come si esplica? Si esplica dalla possibilità del gestore di scegliere quando, in fase di pre-inserimento ordine, se inserire un determinato ordine, e post-inserimento ordine, quando inserire quel determinato ordine, in che entità, e con quale altro ordine di vendita, acquisto, della controparte farlo matchare. E' dunque una decisione sul quando, sul se, sul come del gestore. Diciamo che le caratteristiche comuni, abbiamo detto la multilateralità, comunque i requisiti di organizzazione, vigilanza, di trasparenza che hanno queste piattaforme, questi sistemi, poi anche il fatto di essere sistemi, in quanto questo è vincolato alla presenza di regole, e anche se la piattaforma di negoziazione dovesse essere esternalizzata, comunque l'habitat, il sistema di regole, continuerebbe ad esserci, a sussistere, disciplinando i movimenti all'interno del mercato. Ok, le differenze nel tipo di strumenti e nella discrezionalità. In Italia, situazione, sono aumentate le sedi di negoziazione, MT sono 6, 5 le borse d'Italia, una MTS, e poi sono 12 mercati MTF. MTF, 12 mercati. Ok, poi si va a parlare dei strumenti derivati. Allora, cosa si può dire sui derivati? I suoi derivati possiamo dire che sono strumenti in cui si prevede lo scambio di un sottostante a una data prefissata. Un sottostante può essere un qualsiasi tipologia di bene, può essere vincolato all'accadimento di un evento, può essere anche un'azione, un'attività finanziaria, inteso come strumento, come quota di emissione, derivato, come quota di emissione, un strumento finanziario, un'azione, obbligazione, e strumenti finanziari. I prodotti derivati vengono utilizzati principalmente nel mercato per tre finalità. La prima è quella di edging, cioè di copertura, ovvero di andare a diminuire il rischio del proprio portafoglio comprando degli strumenti che mi permettono di fare ciò. La seconda finalità è quella di arbitraggio, ovvero di andare a conseguire un ricavo, un profitto, senza esporsi al rischio, ma giocando tramite derivati e sottostanti. In ultima battuta, l'ultima finalità, è quella di speculare, di speculazione, speculation, in quanto io esponendomi al rischio provo a fare un profitto. Gli strumenti derivati sono di varie tipologie, noi ne abbiamo analizzate tre, sono i, principalmente, che sono le macro-categorie, sono i contratti a termine, che sono contratti in cui a una data futura, T, detta maturity, ci si andrà a scambiare un sottostante a un prezzo prefissato. L'elemento aleatorio, dunque, è il valore e la volatilità del valore del sottostante. I contratti a termine cambiano, nomenclatura, a seconda che essi si negoziaranno su mercati regolamentati o mercati non regolamentati. Su mercati regolamentati abbiamo i future, abbiamo le opzioni con caratteristiche di standardizzazione. Sui cosi non regolamentati avremo i forward, avremo gli swap, avremo le opzioni non standardizzate. Ecco, queste qua. Forward e future, abbiamo detto, cambia in base al mercato di regolamentazione, comunque sono entrambi lo scambio a termine. Successivamente abbiamo gli swap. I swap sono dei contratti che prevedono lo scambio di due flussi di cassa a date certe nel futuro. Questi flussi di cassa, la natura di questo forward dipende dalla natura del sottostante che si andrà a scambiare. Il sottostante possono essere tassi di interesse, se avrà un interest rate swap in cui ci si scambia flussi di cassa di interesse a date certe e il piano più diffuso del plan one deal e i flussi di interesse non calcolati di un capitale nazionale di riferimento. Poi ci sarà il credit default swap in cui ci si scambia un protection buyer, compra una protezione, un'assicurazione, un protection sell sul possibilità di default, sul medio rischio di credito del proprio strumento finanziario andandosi ad assicurare. E poi c'è il currency swap che si scambia titoli e interessi in una divisa con titoli e interessi in un'altra divisa. Spesso questi interessi sono al tasso variabile. Entrambi i flussi di pagamento sono al tasso variabile. E poi in ultimo abbiamo le opzioni. Le opzioni prevedono lo scambio, il diritto, è un contratto che prevede il diritto di scambiarsi un sottostante a una data maturity a un determinato prezzo prefissato. E' ovvio che io andrò a esercitare la mia opzione solo quando non avrò convenienza. Esistono due fattispecie opzioni la call, il diritto di acquisto, la put, il diritto di vendita e io andrò a esercitare ad esempio la call quando il prezzo col diritto di acquisto quando il prezzo sarà superiore allo strike mentre andrò a esercitare la put quando il prezzo sarà inferiore allo strike nel mio profitto. in un altro modo diciamo che gli swap OTC non hanno caratteristiche di standardizzazione sono contratti privati tra le parti vengono scambiati in mercati OTC diciamo che i mercati OTC sono mercati non regolamentati e soprattutto lo scambio di credit e default swap è un ruolo di esacerbamento della crisi dei mutui subprime del 2007-2008 e dunque il regolatore subito post crisi nel 2012 è intervenuto per cercare con la MIFI 2 appunto di aumentare tutte le sedi di negoziazioni in modo da cercare col trattato OTC e soprattutto con la disciplina EMIER riguardo ai strumenti derivati di andare ad aumentare le sedi di negoziazioni in modo tale da cercare di inglobare tutti i possibili strumenti finanziari scambiati nel mercato e uniformare dunque la disciplina delle discipline elaborate per i derivati a tutti un'uniforme realizzazione un aumento delle sedi di negoziazioni per cercare di imporre quei vincoli quelle norme di trasparenza attua a garantire un'efficienza all'interno del mercato e andare comunque a contrastare l'opacità in cui proliferano fenomeni di asimmetria informativa che sono deleteri per l'efficienza del mercato e per la stabilità interna anche perché questi strumenti abbiamo detto che andando a spezzitare i rischi e tutto andavano a aumentare il rischio di contagio procurando quella che è stata una crisi globale LEMIR LEMIR ha tre categorie principali ha tre punti di intervento principali riguardo degli strumenti derivati inizialmente va a istituire una cassa di compensazione garanzia SPA in Italia comunque una cassa di compensazione che è un ente è un'istituzione che va a garantire il buona riuscita di un'operazione perché si va a garantire e va a garantire possiamo dire a contrastare il rischio di contraparte è ovvio che per entrare ha tutti i requisiti di adesione agisce col conto margine agisce anche col proprio patrimonio con le proprie finanze per ovviare il rischio di credito e dunque va a creare una più sicurezza interna del mercato sicuramente perché fa clearings una stanza di compensazione però si può applicare a quegli strumenti che abbiano un minimo di standardizzazione per gli strumenti come i swap che sono contratti privati che non hanno neanche una parvenza di standardizzazione si applicano il risk mitigation ovvero una mitigazione dei rischi una mitigazione dei rischi si applica una mitigazione dei rischi si ha una mitigazione dei rischi ovvero che si articola in obblighi di comunicazione tempestiva delle modifiche delle condizioni del contratto era entro quarto giorno poi quando era il 2014 entro il secondo giorno e poi le cancellazioni dei portafogli magari se ci sono gli scostamenti tra i book valo andare a comunicare tutte le modifiche dei contratti derivati in ultima analisi comunque sia per gli OTC sia per gli standardizzati ci sono obblighi di reporting ovvero di andare a riportare tutti i contratti messi in luogo sui strumenti derivati le modifiche di essi la fine di essi il trasferimento di essi a determinate banche dati nazionali che poi andranno a comunicarlo all'ESMA e dunque andrà a perpetuare questo in tutta Europa l'importanza è che devono comunicare tutte le modifiche messe nel luogo dei contratti il giorno successivo alla conclusione o modifica o cessazione del contratto alle CCP e le cancellazioni dei portafogli ok questo più o meno in ultimo abbiamo le quote di emissioni le quote di emissioni sono strumenti che prendono avvio dal trattato di Kyoto nel 2005 anche se sono state già pensate nel 2003 con l'ETS European Market Trading Trading European Union Emission Trading Emission Trading European Union Emission Trading nel 2003 giusto 2003 sì è comunque un sistema in cui si va a scambiare queste quote di emissioni che sono autorizzazioni ad inquinare potremmo in qualche modo dire corrispondono a emissioni di CO2 una quota una tonnellata di emissioni di CO2 è un modello di negoziazioni queste quote è un modello K in Trading in cui inizialmente veniva data alle nazioni la possibilità di fissare un tetto nazionale alle emissioni e successivamente le nazioni andavano a suddividere le proprie quote in base alle proprie industrie ad alto impatto energetico e il settore dell'aviazione comunque è stato anche annoverato se comunque andavano a dare queste quote a quelle aziende che potevano garantire una comunicabilità o rispetto di questo sistema di quote di emissioni ok è un modello K in Trading in cui se stanno un tetto che andrà a diminuire nel tempo si cerca di contenere le emissioni ci sono diverse fasi di questo processo di stabilizzazione delle quote di emissioni in quanto se all'inizio l'attribuzione delle quote era gratuito nella fase 2013-2020 è diventata d'asta se all'inizio il tetto era nazionale ha fatto il 2013-2020 è diventato europeo e poi nel 2013 sono stati nombrati più settori a gas e è stato introdotto pure il NER 300 ovvero una normativa attua con 300 milioni a finanziare comunque l'industria green strutture per l'asservimento di CO2 e energie rinnovabili nella fase 2020-2030 che prende via col trattato di Parigi si prevede un aumento del tasso di riduzione del 2,2% delle quote di emissioni emesse all'anno cioè si abbassa il tetto quindi diminuiscono le emissioni si riserva una riserva stabilizzatrice che va a proteggere il sistema ITS dai shock futuri e anche va a combattere l'accentramento di quote in industria del carbone storia di carbonio e poi va comunque tramite un strumento di colongamento gratuito a cercare di tutelare quell'impresa ad alto rischio di rilocalizzazione in paesi che non aderiscono a questo sistema andando comunque a attribuire gratuitamente i quote che sempre vadano a rispettare comunque un certo progresso verso un'economia green verso un'economia green tecnologica diciamo che le quote le emissioni sono sottovalutate perché ci sono stati anche dei dei casini normativi in cui non era nella Mifiduna hanno operato come strumenti di strumenti finanziari dunque non avevano tutti gli obblighi c'erano i strumenti finanziari a Mifiduna sono stati introdotti strumenti finanziari quindi sono scattati gli obblighi di riserva di autorità di trasparenza di standardizzazione di informativi e di negoziazione interna ai mercati regolamentati le quote vengono date le quote vengono spese a seconda di quanto è inquinato entro il 30 aprile devono essere consegnate le quote utilizzate dell'anno successivo dunque può dar luogo al meccanismo del cosiddetto borrowing in cui si usano le quote dell'anno successivo prima del 30 aprile per andare a pagare le emissioni precedenti le imprese virtuose che hanno hanno sprecato meno quote possono andare a dare le quote a coloro che ne ha bisogno andandole a commercializzare all'interno del mercato e sono bancabili in quanto previa autorizzazione di un'autorità nazionale competente possono essere comunque conservate successivo con le generazioni bancabili possono essere utilizzati per la conversione in un periodo di riferimento successivo a quelli di acquisizioni e le la Mifidue l'obbligo di position reporting della consob della posizione sui derivati su merce 4 emissioni relativi derivati senza articolo su Mifidue cioè Mifidue impone le stesse negozazioni in cui sono commercializzate 4 emissioni derivate su DS di andare a smembrare scomporre la posizione completa di tutti i partecipanti clienti all'interno del mercato andare a comunicare alla Consum per obblighi di trasparenza adesso diciamo velocemente l'agenzia di rating quello che solar l'agenzia di rating sono dei soggetti di diritto privato a valutare il merito creditizio di un di merito creditizio di un cliente il rating può essere solicited o unsolicited ovvero richiesto tramite un cliente che si fa appellare per avere un merito creditizio ad esempio su uno strumento che sa premettere oppure dato senza richiesta come i rating sovrani il procedimento di rating solicited è un procedimento a pagamento in cui il cliente va a pagare l'agenzia di rating ci sarà si aprirà un incontro telemanagement in cui andranno a presentare i prospetti di crescita informativi piano economico finanziario il piano strategico piano industriale e sulla base di quella e su informazioni che verranno date all'agenzia di rating si radunerà una commissione per il rating e emetterà un primo rating una prima proposta di rating che può essere accettata o ridiscussa dal cliente che andando a dare altre informazioni potrà andare a migliorare la propria posizione di rating è ovvio che questo procedimento da luogo ha un rapporto stretto tra l'agenzia di rating e tra clienti anche perché l'agenzia di rating non è che va a fare solo il rating ma può fare tutta un'altra serie di servizi ausiliari volti magari a costituire un prodotto tale da avere maggior giudizio di rating possibile e dunque questo dà luogo a un potenziale conflitto di interessi che per molti è stato una delle matrici della crisi dei rating dei mutui subprime nel 2007 e 2008 dunque l'Europa con regolamento del 2009 vuole intervenire anche per andare a cercare di andare a regolamentare questo settore perché il rating ricordiamo è un'opinione nel 2009 è stato pensato come un'opinione sul merito creditizio di un debitore rispetto a una sua obbligazione o in eccezione assoluta calcolato secondo fattori di rischio nel 2013 è diventata no nel 2009 nel 2009 è diventata sempre un giudizio un parere sul il grado di rischio di un cliente il suo grado di rischio in rapporto a un'obbligazione da lui emessa valutato sulla base di un sistema di classificazione di classificazione a classi di rating a categoria di rating diciamo che il rating deve comunque su una corporate aziendale comunque deve andare a considerare anche il paese l'ambito regolamentare nazionale economico deve andare a considerare anche la posizione nel mercato di quell'azienda la sua value proposition il rapporto ai competitors l'ambito regolamentare economico macro e macro di quella di quella azienda propensione al rischio e il management le agenzie di rating prima del 2009 non erano regolate perché si pensava che il mercato facesse regolamentazione e la regolamentazione esterna avrebbe solo avuto il ruolo di compromettere l'indipendenza dunque la disciplina europea con il regolamento del 2009 ha voluto iniziare a introdurre dei vincoli per queste agenzie di rating proponendosi di far diminuire e di ovviare problemi di conflitto di interessi che queste avevano andando a imporre un obbligo comunque di iscriversi a un registro europeo a ESFM dell'agenzia di rating e poter operare in Europa solo se comunque qui iscritte per cercare di andare a uniformare il settore garantendo l'integrità dei mercati con una disciplina comune che garantisca la trasparenza e la buon governance delle attività di rating del credito o meglio di quelle che operano in Europa ok i problemi lasciati risolti sono il predominanza di due o più agenzie nel panorama di predominanza di poche agenzie una concentrazione dunque poi c'è ancora la possibilità di conflitti di interessi comunque l'alto valore che queste hanno in termini per investitori la poca indipendenza la responsabilità il problema del rating sovrano e rapporti troppo lunghi tra agenzie e privati il problema del rating sovrano è il rating che viene emesso per valutare comunque le condizioni di uno stato le soluzioni del nuovo regolamento del 2013 vuole diminuire il ruolo dell'agenzia di rating risolvere conflitto di interessi cioè un socio un azionista un socio che detiene almeno il 5% del capitale dei diritti voti in un'agenzia di rating o in un'impres società che ha il potere di esercitare un'influenza su di essa non può avere rapporti con altre agenzie e poi una durata massima del contratto di rating e il doppio rating per gli strumenti finanziari strutturati i rating sovrani sono emessi in modo da garantire che la specificità in un paese sia rispettata devono essere per un gruppo di paesi devono essere correlati a una brochure a una relazione sul motivi di quel rating lì a quel paese una certa di piccola analisi e poi possono essere dati massimo 3 rating all'anno nel mese di dicembre un calendario per i 12 mesi successivi ci devono essere un calendario e delle prospettive di rating limitando un massimo di 3 rating può riscoltarsi da andare al calendario solo perché magari per uniformarsi alla normativa ad esempio mi mancava da finire la relazione e l'ultimo è stata prevista anche una responsabilità civile dell'agenzia di rating per colpa grave o per intenzionalità ha violato una norma che ha inciso sul rating possono chiedere l'investitore o l'emittente possono chiedere comunque un risarcimento ok grazie 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 grazie